La squadra c'è, la squadra c'è, su questo non si discute, è compatta, la squadra si vede che è una squadra, abbiamo vinto, non è facile vincere a Cagliari, abbiamo vinto con merito, anche se non abbiamo stravinto, però è stata una squadra che molto ligia alle indicazioni di Gattuso, fin troppo, secondo me, perché alle volte questa ricerca maniacale della partenza dal fondo sembra veramente eccessiva, in alcuni casi un'accelerata avrebbero potuto darla, anche perché poi alla fine molto spesso la palla l'abbiamo regalata, è vero che quando riesci a passare la linea Maginot del Cagliari che ti pressa, poi l'azione si può svolgere, però non è che l'abbiamo sfruttata neanche molto, evidentemente bisogna continuare su questa cosa, però bisogna trovare l'equilibrio giusto, a volte mi sembra esagerato, anche perché, ripeto, abbiamo due difensori centrali che con i piedi sono scarsi e quindi la probabilità di perdere la palla aumenta a dismisura, comunque il Napoli ha meritato, ha giocato, è stata una squadra, però certo, se non ci fosse stata probabilmente l'azione del singolo, ma questo fa sì che una squadra ha un livello tecnico superiore, eventualmente, è chiaro che è un giocatore di livello tecnico superiore, Mertens, che ti fa quel gol, e allora ti cambia la partita, dopodiché però abbiamo controllato, alla fine abbiamo controllato bene, non abbiamo subito occasioni, però è sempre un po' colpa tema d'animo, insomma, perché noi quella partita bisognava chiuderla, chiuderla, e ha sbagliato anche Mertens, preso dall'entusiasmo, un minuto dopo il gol, due minuti dopo il gol, che lui doveva semplicemente dare quella palla a Politano sulla destra, invece già era partito con in testa l'idea del tiro da lontano al portiere, però lui avrebbe dato la palla a Politano, altrimenti sarebbe stato gol, quasi sicuramente, andava direttamente in porta, ora, comunque, un altro paio di volte ci siamo un po', signora, bisogna essere più concreti, questa cosa di questa caratteristica del Napoli, che a un certo punto diventa troppo così fumoso, insomma, sei arrivato molte volte vicino all'aria, sbaglio l'ultimo passaggio, e questo che manca al Napoli, perché noi, i gol si devono fare, questa è una partita da chiudere, da chiudere, è vero che non abbiamo rischiato, però, però alla fine ci voleva un calcio d'angolo, un rimpallo, una cosa, un rigore, e noi come prendiamo il gol? Quindi questo deve, insomma, Gattuso, glielo vuoi dire a questi qua, sentite, quella partita devi chiuderla, questa è una partita da chiudere, 2-0. Comunque, il Napoli ha giocato bene, si sono viste cose buone, la scelta iniziale di non far giocare in signa, secondo me, alla fine, considerando anche come ha giocato in signa nel secondo tempo, insomma, si vede il livello, l'intesa con gli altri movimenti cambiano, anche se praticamente ha segnato subito, quindi il gioco è cambiato. No, ma Helmas ha giocato bene, dà il suo contributo energico, però a volte fin troppo, un po' così, disordinato, fin troppo, insomma, non è molto altruista, in molti casi doveva dare la palla e non l'ha fatto. Io comunque, ecco, ovviamente, con in signe le geometrie sono molto più efficaci. Ora praticamente il Napoli quindi ha meritato, Demme a centro campo ha giocato bene, è un giocatore proprio basic, semplice, semplice, come si chiama, però utile all'ordine della squadra. Dobbiamo proseguire, certo, spero che un giorno su questa base la squadra incominci ad assumere una potenza, un'energia e una rapidità, una velocità maggiore, perché è abbastanza lentuccio, ecco, anche se, ripeto, la squadra c'è, è studiato quasi questo modo di giocare, questo continuo passaggio per il portiere, eccetera, però bisogna, bisogna un giorno per fare una squadra forte avere, avere anche più ritmo, più meccanismi più precisi, più passaggi azzeccati e così. Comunque, i nostri obiettivi quali sono? Se ieri avesse vinto la Roma a Bergamo, ancora ci potevamo sperare, perché saremmo stati a nove punti dal quarto posto e saremmo stati con scontri diretti e quindi ci poteva fare qualcosa. Ora sostanzialmente la vedo proprio difficile recuperare i dodici punti dal quarto posto, che sarebbe poi il sogno a questo punto, è impossibile, ma non tanto per i dodici punti, ma perché l'Atalanta è veramente una squadra forte, è uno squadrone! Dobbiamo sperare che l'Atalanta vada avanti in Coppa e ce n'è tutta la possibilità, e me lo auguro, vada avanti in Coppa battendo il Valencia, l'Atalanta è migliore del Valencia probabilmente adesso. E magari chissà, andando avanti, perché noi non credo che potremmo andare avanti, però a questo punto Napoli può fare il miracolo, anche con il Barcellona, ma a questo punto noi che ce n'è un porto, zitti zitti, ma prima che succede, ecco diciamo così. Signori, stiamo mandando avanti la squadra, i giocatori nuovi, poi Politano, fino a me, anche quando entra, fa proprio che confusione, ecco, c'è un'altra parte, ma Politano certo si vuole mettere in mostro, vuole fare un dribbling e più, eccetera, però, insomma, ancora non può entrare, secondo me, in quegli schemi d'attacco, per cui, ecco, per esempio Calleon si trova, è molto più coerente con tutte le giocate davanti. È troppo altruista Calleon, perché ha quelle palle, alle volte, quella bella palla che gli arriva dall'altra parte, lui non è che pensa a tirare, pensa subito a dare la palla indietro al giocatore, che è logico, e così si dovrebbe fare, però in alcuni casi, veramente poteva oggi, forse, tirare in alcuni casi, ecco, deve tirare di più Calleon. Comunque, siamo ancora una squadra in lavoro, in corso, va bene, la squadra c'è, ora dobbiamo puntare a, niente, a vincere sempre, fino a che, l'obiettivo qual è? Coppa Italia, vincere la Coppa Italia, battere, attenzione, perché con l'Inter non sarà affatto facile, cioè, psicologicamente l'altra squadra già sa che deve, ha un solo risultato, c'è la vittoria, anzi no, c'è anche un altro risultato, no, solo vittoria, giusto, quindi la vittoria, quindi entra psicologicamente, attenzione, noi possiamo rilassarsi, come sempre ha insegnato il calcio, queste situazioni sono a grosso rischio, cioè, parliamoci chiaramente, basta che l'Inter segna un gol, a questo punto, da quel momento in poi, ne fa un altro e finita, signori, non scherziamo, la finale di Coppa Italia, il Napoli ci deve andare, sono anni e anni che non ci va e deve vincere, deve battere la Juve, che credo che andrà, quindi, gli obiettivi sono Coppa Italia, miracolo con Barcellona, se viene e viene, ovviamente l'obiettivo a questo punto è sicuramente il quinto posto, il quinto posto, però diciamo, a noi non è che ce ne importe tanto, o quinto o sesto, anche se il sesto dove vincere, cioè noi dobbiamo ancora sperare, nel miracolo quarto posto, quindi cari miei, è il momento di rimboccarsi le maniche, nel calcio non si sa mai, la squadra c'è, però deve migliorare, migliorare, migliorare molto, per cui andiamo avanti e forza Napoli!